Episodio di Peppa Pig censurato in Australia per un ragno. Ecco perché. Peppa Pig è uno dei cartoni animati più amati dai piccini che dal 2004 fa sorridere con le sue buffe avventure. Un personaggio simpatico protagonista di molte puntate, ma uno di questi è stato rimosso dalla TV australiana. Vediamo perché. Peppa Pig vive assieme alla sua famiglia di maiali tutti rosa, mamma, papà e il fratellino George appassionato di dinosauri. Oggi il cartone animato è trasmesso in oltre 20 paesi del mondo. In ogni puntata di 5 minuti vengono raccontate le sue avventure, episodi semplici con un linguaggio facilmente comprensibile ai più piccoli. Ma anche se Peppa è un personaggio amato e innocente, la televisione australiana ha rimosso uno dei contenuti. Il capitolo in questione è il 1x47 di Tela e di Lexlan, qui Peppa trova un ragno e in un primo momento fugge terrorizzata. Suo padre le dice di non avere paura, perché l'animale è troppo piccolo per farle male. Alla fine Peppa e George adottano il ragno e la scena finale li mostra intenti a giocare con lui. Questo atto che potrebbe risultare innocente, in realtà, viene visto sotto un'altra luce in Australia e il motivo è molto semplice, come riporta The Guardian. Nel paese dei canguri, ci sono molte specie di ragni letali per questo ai bambini viene insegnato di fuggire se ne vedono uno, è il modo più sicuro per evitare una disgrazia. Durante l'episodio, Peppa torna indietro a giocare con il ragno, questo risulta in contraddizione con quanto insegnato dai genitori e può mandare in confusione i più piccoli, oltre che incentivare comportamenti pericolosi. Si sa che i bambini tendono a emulare i gesti dei personaggi dei cartoni animati, e se è vero che gli animali vanno rispettati, non tutti possono essere avvicinati ed essere trattati al pari di cani e gatti. Questa distinzione è molto importante in un paese dove i ragni arrivano a una lunghezza di 30 centimetri, rappresentando un serio pericolo. Immaginiamo se il bambino, dopo aver visto la puntata di Peppa, avesse toccato preso il ragno in mano. Non solo, nell'episodio Peppa porta il ragno a casa, lo mette sul letto e gli offre del tè, insomma uno spettacolo insensato per il pubblico australiano. E dopo le lamentele dei genitori, la puntata è stata rimossa. Ma gli autori si sono giustificati, è stato mandato in onda per sbaglio.